10 miliardi di buoni motivi per dare finalmente risposte concrete alla sanità regionale. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il giorno dopo l'assoluzione per la vicenda termovalorizzatore annuncia le importantissime novità sul fronte sanitario. La regione Campania per il 2016 riceve dal governo centrale 10,2 miliardi di euro, cioè la quota pro capite in termini assoluti più alta della sua storia. Lo ha annunciato in una conferenza stampa proprio De Luca, che intanto ha ammonito i dirigenti degli ospedali. Non voglio più vedere pazienti sulle barelle nelle corsie, così come accade in molti nosocomi della regione, ha detto. In soldoni, De Luca dice che d'ora in avanti non ammetterà più errori, chi sbaglia pagherà col posto. Anche perché, dice ancora il numero uno di Palazzo Santa Lucia, non è vero che mancano strumenti e personale, va soltanto riorganizzata la sanità, una sanità diversa, migliore. Il pugno di ferro su un argomento da sempre molto delicato, sanità campana che deve uscire fuori dal commissariamento e le notizie sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale rafforzano le speranze di De Luca. E sull'inchiesta della Procura di Napoli e le indagini della Guardia di Finanza, che ha accertato sprechi in campo sanitario per circa 16 milioni di euro, De Luca ha ammesso che questa attenzione dei magistrati e delle forze dell'ordine va nella stessa direzione politica che si sta seguendo. Del resto, ha detto ancora De Luca, l'Arsan, un carrozzone clientelare che non serviva a nulla, l'avevamo già smantellata prima dell'indagine. Sulla sua assoluzione poi e l'allontanarsi definitivo della spada di Damocle della legge Severino e della possibile sospensione, De Luca ha detto che in Italia si divertono a massacrare la dignità delle persone.